cari amiche e cari amici ben ritrovati qui a storie di vino e viticoltori quest'oggi con me ho ospiti mattia benedetti e giovanni bpia della cantina ghetto buongiorno mattia buongiorno francesco buongiorno giovanni buongiorno allora tanto per rompere il ghiaccio direi di cominciare con una domanda che molti di noi si staranno chiedendo ovvero prima di tutto come si pronuncia in piemontese il nome della vostra cantina mattia si pronuncia giovanni ci dici perché avete scelto di chiamare la vostra cantina ghetto allora abbiamo scelto questo nome dopo mesi di veramente tentativi disastrosi ogni nome che pensavamo era più brutto dell'altro un inverno eravamo a potare con con degli anziani in vigna e abbiamo raccontato un po' del nostro progetto dicendo guarda vorremmo appunto fare questo fare quest'altro e ci hanno chiesto ma avete la terra e noi abbiamo risposto no avete soldi budget e la risposta è stata no allora dovete metterci un po' di guddu e abbiamo chiesto ma cos'è questo guddu e ci hanno spiegato che è creatività brio slancio voglia di fare ci siamo guardati e l'abbiamo sentito no quindi voi da quello che ho capito mattia non nascete viticoltori no 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 tutt'altro ci vuoi raccontare qual è la traiettoria che porta quindi delle persone che non hanno un legame parentale diretto con la vita e con la terra in generale a scegliere di diventare viticoltori direi in entrambi i casi la passione la passione in generale dello stare a tavola direi è un po' di quello che viene anche dalla dalla terra poi nel caso di giovanni si è concretizzata prima ha cominciato un percorso di studi di enologia e quindi poi diciamo che era un po più era una strada già già avviata nel mio caso io ho fatto studi di tutt'altro tipo una carriera professionale diversa e poi però a un certo punto giovanni mi ha coinvolto in questa in questa avventura è partita un po un po per gioco all'inizio era così insomma non avevamo grandi ambizioni abbiamo detto proviamoci vediamo come come va mal che vada ci beviamo noi insomma finiamo l'uva l'uva da barolo si vende sempre e poi siamo fatti prendere la mano e da lì abbiamo cominciato a fittare qualche terreno in più poi siamo riusciti a comprare un altro pezzettino insomma pian pianino adesso siamo siamo arrivati a la dimensione ancora molto piccola rispetto penso alla media delle delle imprese vitivinicole in italia però comunque insomma facciamo le nostre 20.000 bottiglie siamo abbastanza soddisfatti del della dimensione raggiunta in questo momento e giovanni io la settimana scorso ho avuto come ospite una tua compaesana una vostra compaesana se così si può dire per sommi capi ovvero una produttrice langarola che è nadia curto la quale mi diceva appunto che la sua realtà comunque è una realtà piccola è una realtà molto a misura d'uomo infatti lei ha un appezzamento vitato che si aggira intorno ai quattro ettari e spicci voi da quanto siete partiti e oggi quanti ettari come dire controllate o tramite affitti o tramite proprietà diretta certo beh per tutto un saluto a nadia che è una persona fantastica poco gelosa e molto aperta abbiamo avuto modo di scambiare varie opinioni e confrontarci in questi ultimi anni e allora noi siamo partiti comprando un po di uva perché ci è sembrato la maniera un pochino più cauta per partire in questo mondo per capire per fare dei test per capire dove andare a parare e poi adesso siamo arrivati ad avere più o meno un ettaro e sei di terra ovviamente in maniera scalare siamo partiti da una giornata piemontese che è 3800 metri quadri e poi appunto tra affitti e proprietà siamo a un ettaro e sei e poi continuiamo a comprare un po di uva da degli amici e ci tengo a specificare che per noi comprare uva vuol dire che questi amici ci consentono di collaborare con loro in vigna magari non proprio in tutte le fasi però magari potatura e alcune fasi cruciali che se non sono certificati biologici comunque sappiamo che la loro lotta è una lotta veramente sostenibile perché ci confrontiamo e sappiamo cosa usano e ultimo non ultimo è che se usano mano d'opera è mano d'opera che non è soggetta a caporalato se ci sono delle cooperative su delle cooperative sane la gente pagata al giusto questo per noi è fondamentale tanto quanto l'impatto ambientale mattia prima di toccare un tasto che a me molto caro anzi due che sono uno l'ecologia e l'altro l'artigianalità che in qualche modo giovanni ha già fatto trapelare nel suo ultimo intervento ci dai spannometricamente un'idea di dove siete posizionati con i vostri terreni e da chi attingete le uve che comprate in che zona siete certo i nostri vigneti di proprietà partirei da quelli che sono poi tutti a nebbio a uva nebbiolo sono tutti nel comune di lamorra sono tre tre crew differenti quindi tre colline differenti brandini che è quella da cui da cui siamo partiti che sta nel versante occidentale di lamorra così come berry che è la vigna un po più più estesa che ed è l'ultima che abbiamo comprato e poi abbiamo un piccolo appezzamento a rocchette vino che invece sul versante orientale di lamorra proprio sotto al paese dove dove abbiamo anche un abbiamo ristrutturato un piccolo chabot poi ne parleremo magari anche più avanti dove facciamo accoglienza ti anticipo un attimo ne parleremo sicuramente più avanti ma già che non mi lo spiega che cosa è un chabot è una volta era si usava come come ricovero agricolo si andava a lavorare della della terra anche piuttosto lontano da casa quindi non c'era il tempo poi di tornare a casa per pranzo a volte anche di tornare a casa a dormire e quindi si usavano questi 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 ricoveri agricoli intanto per gli attrezzi per tenere per tenere lì un po di attrezzatura e poi in alcuni casi per quelli un pochino più più grandi strutturati come il nostro proprio per per ripararsi quando pioveva per per fermarsi a mangiare e in alcuni casi appunto anche per per dormire scusa se mi inserisco per dare un taglio della dimensione magari può essere utile siamo parlando di locali da 13 metri quadri ciascuno sì 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 cose proprio minimali il nostro che è su 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 due livelli sono mi pare due stanze da tre 9 12 12 mi sembra se siamo sui 24 25 totali esatto però mi viene in mente una cosa scusate ma 13 metri sono veramente pochi mi viene in mente la krushevskaya che era durante il periodo dell'unione sovietica il primo tentativo di edilizia popolare portata avanti da krushov perché prima di krushov durante l'epoca di stalin c'era chi abitava nei palazzi ma c'era chi abitava nelle baracche di latta e krushov fu il primo a intraprendere un progetto di edilizia popolare per dare un tetto a tutti ma la cosa curiosa è il fatto che insomma certo dalle baracche di latta ad un tetto costruito con cemento eccetera c'è già una bella differenza ma lo spazio abitabile era di 6 metri quadrati per ogni individuo quindi una famiglia moglie marito e un figlio erano 18 metri quadrati ma già rispetto ai 13 è tanta roba voglio dire sì sì ma infatti non era una casa era proprio un rifugio diciamo dove appunto tenere magari come nel nostro caso al piano di sotto le attrezzature agricole di sopra un tavolo due sedie nel caso materasso buttato lì per terra un pagliericcio un pagliericcio esatto per passare la notte ci collochiamo tra l'edilizia di krushov e le capsule giapponesi per dormire vicino all'aeroporto molto meno tecnologiche però tanto più analogiche giovanni a proposito del dei vostri due appezzamenti di proprietà esistono delle differenze tra le giaciture dei terreni ad esempio a berri o agli altri luoghi su cui insistono i vostri vigneti sì 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 c'è una differenza principalmente in quello che è l'orizzonte del terreno nel senso che a brandini la marna che è la parte la matrice su cui si appoggia gran parte del terreno dell'areale del barolo è molto bassa abbiamo tre metri di orizzonte fertile quando abbiamo fatto lo scasso proprio ho foto in cui si vede proprio che c'è questa questo livello mentre invece a berri la marna è un pochino più alta e una cosa berri ha una rarità per l'area del barolo ha un pochino di scheletro è un terreno con qualche sasso questo perché perché proprio è una si affaccia su un canyon che da proprio poi sulla valle del tanaro e quindi probabilmente sono dei residui fluviali che arrivano fino a lì e questo ha connotato una cosa l'anno scorso nel 2022 che c'è stata una grande siccità il vigneto di berri che paradossalmente è quello più fresco di tutti nella parte in fondo poi ha patito la siccità proprio perché grazie allo scheletro l'acqua andrena più facilmente mattia senti io vorrei aprire un attimo una parentesi dedicata visto che giovanni ci ha spiegato insomma che la composizione dei terreni di vostra proprietà è diversificata e presumo che sia anche differente da la posizione dei terreni dai quali voi comprate uve ovviamente vorrei che tu ci facessi a volo d'uccello una rapida panoramica di quella che è attualmente la vostra intera produzione vitivinicola la vostra gamma produttiva dando anche un'indicazione di dove si trova il vigneto dal quale o i vigneti dai quali attingete l'uva allora partiamo da dal nebbiolo dal barolo che sono i terreni di cui abbiamo parlato finora il nostro barolo proviene dal vigneto di berri mentre il langhe nebbiolo è un blend degli altri di tutti e tre i vigneti di nebbiolo quindi da berri rocchette vino e brandini la barbera proviene da due vigne di monforte d'alba due piccole vigne una pochino più con un impianto più recente l'altra è un impianto di dieci quindi sì una dozzina di anni dopodiché abbiamo il dolcetto che invece proviene da un vigneto in affitto a roddino quindi siamo appena fuori dall'areale del barolo in una zona un pochino più più alta che siamo circa 600 tra i 600 650 metri sul livello del mare una zona più boscosa proprio il paesaggio cambia molto si vede che si esce dalle dalle colline del barolo e si entra in una zona invece ancora un pochino più più selvaggia c'è qualche vigna ma così come si vede anche qualche qualche bosco ecco ed è un vigneto è un vigneto invece questo di 65 anni circa sono sono vigne vecchie quindi con delle rese basse a un'esposizione a nord e che è perfetta per il dolcetto perché il dolcetto è un vitigno a maturazione precoce quindi non ha bisogno di di grandi insolazioni anzi e poi soprattutto a questa l'altitudine gli dà un ottima escursione termica tra giorno e notte e che garantisce uno sviluppo della parte invece aromatica e poi per finire il nostro bianco questo proviene esclusivamente da uve comprate noi non abbiamo terreni a bacca bianca è un blend di arneis nascette timorasso il timorasso lo compriamo dalla sua zona di origine quindi dalle dalle colline di di tortona mentre l'arneis viene anche lì dalla sua terra di maggior vocazione quindi dall'altra parte del tanaro siamo nelle colline del roero un terreno sabbioso rispetto a quello della della langa che quindi più vocato sicuramente mentre la nascetta viene anche quella dalla sua terra di elezione quindi dal comune di novello e sono appunto tutte uve che compriamo da aziende con le quali lavoriamo lavoriamo stabilmente abbiamo un rapporto di collaborazione ormai da da qualche anno sappiamo come lavorano riconosciamo insomma di questo ne ha già parlato giovanni prima infatti volevo tornare a giovanni a proposito di questo perché tu giovanni avevi già aperto questa tematica e come ti avevo detto ci sarei voluto tornare una tematica che come dire riveste un pochino più in generale la mia concezione di di viticoltura che dal mio punto di vista deve avere un valore politico e quando dico politico non intendo né di destra né di sinistra ma deve andare a interrogare delle caratteristiche profonde cioè ci deve essere un afflato etico in qualche modo in quello che si fa l'aflato etico ci dovrebbe essere ovunque ma considerando che in agricoltura in generale e in viticoltura poi nel vostro caso sia a che fare con prodotti che sono prodotti edibili in qualche modo sono alimenti unire due caratteristiche la prima il fatto che vengano prodotti seguendo delle direttrici etiche non negoziabili mi permetto di dire la seconda che seguano un disciplinare passami il termine molto preso per esteso che miri a giocare pulito che miri a giocare ecologico per me sono due valori che sono assolutamente imprescindibili siccome tu ne avevi già fatto cenno poco fa se ne potessi come dire insomma ampliare un po il discorso te ne sarei grato l'ho accennato prima secondo me sono due binari paralleli su cui bisogna lavorare assolutamente che sono quello appunto la tematica ambientale la tematica del lavoro partiamo dal presupposto che in langa siamo fortunati perché comunque una terra d'elezione una terra che tutti cercano siamo aziende che chi con le proprie fatiche perché arriva magari dal nulla come noi chi per altre questioni però di base una zona fortunata quindi secondo me dobbiamo farci assolutamente capofila in questo nuovo nuovo modo di interpretare l'agricoltura e quindi a livello ambientale assolutamente bisogna ragionare sempre di più verso delle lotte mirate non lotta calendario e quindi se biologico biologico comunque ragionato cosa intendi per lotta calendario lotta calendario vuol dire che ogni venerdì io vado a fare il trattamento indipendentemente da quello che succede perché tanto so che sono biologico allora però a questo punto io ti sfrugulio e invece voi cosa fate? invece cerchiamo di stare tanto in vigna per fortuna la fortuna qual è che abbiamo pochi appezzamenti quindi riusciamo a girarci tanto 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 cerchiamo molto di ascoltare il vigneto di vedere i primi segnali che dà la pianta riguardo attacchi di peronospra e così via e quindi si cerca di lavorare in questo modo ma soprattutto la sfida che c'è in Lang adesso è cercare di dare un po' di variabilità ecologica in quella che è diventata una grande monocultura bellissima a livello estetico però abbiamo solo solo vigne e questo facilita molto questi funghi come la peronospra che mutano anche molto velocemente si vanno a specializzare e quindi l'idea e il lavoro che si sta facendo un pochino in vigneto è quello di cercare di usare essenze un pochino diverse stiamo lavorando anche con dei funghi per cercare di usare armi diverse rispetto a solo i trattamenti resumo o mi sbaglio se parlo di micorizzazione? allora assolutamente i nuovi impianti che abbiamo fatto sono micorizzati la sfida però poi è fare in modo che questa micorizza poi si consoci non a un'altra vite che si può forgere più da segnaletica è bene che ci sia una comunicazione ma fare in modo che arrivi a un'altra specie magari arbustiva magari a un albero perché? perché ha un patrimonio di know-how diverso magari ha una sensibilità diversa a quella malattia quindi magari avvisa la pianta o gli trasloca direttamente dei prodotti che possono aiutarlo a difendersi ormai comprovato avrei letto un sacco di studi su come nel bosco le piante tramite le micorizze si parlano il lavoro in realtà che sto provando non sto vendendo nulla perché è una prova non sto dicendo che funziona è solo che sono appassionato di funghi anche Mattia lo è quindi stiamo provando a vedere se i funghi si approfitti che sono quelli che mangiano cose morte sostanzialmente riescono a degradare foglie e quant'altro così via ma riescono anche magari ad attaccare le spore della peronospora perché la peronospora sverna durante l'inverno sulle foglie principalmente e quindi se mi attacchi la foglia più velocemente e mangi anche la spora magari ho un inoculo di partenza di peronospora nella stagione successiva più bassa quindi riesco a contenerla anche meglio Mattia io rifacendomi a quello che mi ha appena detto Giovanni ovvero il fatto che il vostro approccio ecologico sia come dire dettato o meglio veda alla base un rapporto quasi simbiotico con i vostri terreni il fatto che voi passiate molto tempo in vigna ad passami il termine ascoltare quello che le piante vi stanno dicendo mi fa pensare ad uno di quelli che io ritengo essere un altro dei miei temi temi forti nel senso un altro di quei temi che io porto avanti con molta convinzione ovvero la necessità di ritornare se si vuole lavorare in un certo modo ad un rapporto artigianale tra l'uomo e la vita perché? Perché prima proprio tu Giovanni avevi fatto riferimento alla giornata lavorativa piemontese e ora non è che se uno a qualche ettaro in più non guasta però io ritengo che sia assolutamente necessario il fatto di poter contare su una estensione territoriale sulla quale l'artigiano viticoltore con i suoi collaboratori più stretti quindi persone che appunto come diceva Giovanni all'inizio non sono sfruttate tramite esempi di caporalato possono contribuire a portare avanti concordi su quest'aspetto della necessità del gesto artigianale nella produzione del vino proprio da un punto di vista sempre rimanendo nella sfera etica? Sicuramente il termine artigiano del vino è un termine che mi sento di sposare abbastanza tranquillamente mi piace come definizione intanto nella connotazione appunto della vigna del lavoro in vigna e qui torniamo un po' appunto alla dimensione proprio dell'azienda è ovvio che come diceva prima Giovanni se ho delle giornate lavorative come terreni adesso la giornata lavorativa è un termine che in Piemonte ancora si utilizza parecchio rispetto a decine di ettari è ovvio che io titolare dell'azienda o comunque nel caso anche di aziende un pochino più grandi il mio dipendente che è una persona formata che lavora in azienda che è ben pagato, pagato adeguatamente può passare del tempo nel vigneto ascoltarlo, conoscerlo e intervenire in modo efficace e quando serve soprattutto fa tutta la differenza del mondo sia in termini di qualità poi del prodotto finale che è appunto in termini di utilizzo di pesticidi in generale di chimica che poi finisce nei terreni, finisce nelle acque adesso leggevo uno studio che parla di una media di 4 kg per ettaro 4,5 kg per ettaro di pesticidi in Italia che è però una stima un po' a ribasso nel senso che questo conta l'estensione completa del territorio italiano ma se teniamo conto che poi in mezzo ci sono compresi i parchi, i giardini e i boschi le montagne e tutto quindi se poi vai invece a fare una media sulla superficie realmente agricola parliamo di cifre ben differenti e quindi questo dovrebbe far riflettere insomma perché poi finisce appunto tutto nelle acque le acque che ci beviamo, ci laviamo eccetera tra l'altro non solo voi ma anche i vostri figli no no tutti, anche gli animali che mangiamo cioè tutto insomma senti Giovanni a proposito sempre rimanendo sul tema dell'artigianalità mi viene in mente una cosa che giustamente Mattia ha evidenziato cioè se tu hai una realtà vitivinicola di dimensioni contenute poi questo concetto del contenuto non devo essere io a dare una soglia oltre la quale non è più contenuto però se tu hai una dimensione vitivinicola usiamo un altro termine a misura d'uomo e vuoi che i tuoi dipendenti passino tante ore in vigna esattamente come la proprietà a di nuovo sempre fra virgolette ascoltare le viti questo implica per forza di cose che tu non puoi fare ricorso al caporalato perché se tu fai ricorso al caporalato è gente che la usi per fare la vendemmia ma poi è gente che le tue vigne non le ha mai viste no e che soprattutto magari non ha voglia di fare quel lavoro perché si trova in una realtà lavorativa orribile e quindi se vuoi fare viticoltura artigianale di qualità serve passione questo è imprescindibile e quindi non li sto abiasimando dico che io nei loro panni non mi troverei a mio agio e non farei un bel lavoro quindi questo è fondamentale noi ci affianchiamo una volta all'anno cambiamo tirocinante prendiamo un tirocinante o dall'università di Pollenzo quindi scienze gastronomiche o dall'università di Enologia che ha il secondo e il terzo anno di quella di Torino ha il secondo e il terzo anno ad Alba per noi è una cosa molto bella uno perché ci fa sentire più giovani avere dei ragazzi che ci svecchiano due è un'occasione di crescita per noi perché io comunque non sono uscito da tanto all'università sono uscito da 15 anni più o meno e ho studiato una viticoltura vecchia il cambiamento climatico non era ancora ponderato studiavo su studi di 40 anni fa loro invece stanno già studiando cose sul pezzo quindi è anche un'occasione di scambio per me e comunque questi tirocinanti sono pagati da noi perché non esiste che il tirocinio all'italiana sia un mero sfruttamento e infatti abbiamo un rapporto ormai di 5 anni con questi ragazzi che ci chiedono si confrontano con noi il rapporto è rimasto e qualcosa vorrà dire o è sindrome di Stoccolma o magari e quindi ci è capitato anche i più meritevoli di piazzarli da altri amici in giro per l'Europa e continuiamo così e ci piace veramente tanto poi è chiaro che nella fase di potatura e di vendemmia ci facciamo dare una mano anche da amici che non ne sanno poco di viticoltura cerchiamo di spiegarli ma questo si è sempre fatto anche nelle aziende familiari ci sono quei periodi dell'anno in cui si concentra molto lavoro è inevitabile potatura se mi permetto stralciatura potatura non metto le forbici in mano quasi neanche al tirocinante sono un po' maniacale su quello o meglio formo il tirocinante però diciamo che pota con calma perché è un attimo far disastri no è vero la potatura adesso da quando hai smesso di avere anche un altro lavoro la stai seguendo tu in prima persona forse in passato ci siamo fatti dare una mano un pochino di più però adesso adesso sì allora abbiamo parlato dei vostri vini abbiamo parlato di artigianalità abbiamo parlato di ecologia in vigna e adesso però per concludere il cerchio della vita per per rifarmi una canzone di Ivana Spagna chi di voi mi parla della ecologia in cantina beh direi che l'enologo è sicuramente la persona più qualificata per parlarne allora signor enologo qual è la parola che emozione l'ecologia in cantina è una tematica secondo me più semplice rispetto al vigneto da gestire ed è ed è un lavoro secondo me che la tematica principale è quella dell'acqua perché comunque per produrre una bottiglia di vino ci vogliono x litri d'acqua adesso non so dirvi quanti sono studi che ho letto ma sono sempre troppi e questo è un lavoro su cui dobbiamo fare dei passi avanti perché per esempio non abbiamo il recupero delle acque noi purtroppo siamo in una cantina bellissima in affitto che non è nostra non ha spazi fuori per fare una vasca di fitodepurazione però un domani ci piacerebbe tanto poter fare una cosa in una nostra location mi piace anche raccontare le cose su cui non siamo ancora sul pezzo perché è inutile che siamo qua a dirci siamo belli siamo bravi facendo le cose migliori del mondo ma è anche bello darsi no degli obiettivi anche in questa sede se no sarebbero solo fregnacce e magari spiego cos'è la fitodepurazione che magari non sanno tutti cosa è prego certo la fitodepurazione è una tecnica di depurazione delle acque da alcune sostanze quindi se usiamo porcate in cantina in vigna alcune cose le piante assolutamente non riescono a metabolizzarle a smaltirle principalmente per abbassare i carichi azotati e altre cose per fare in modo che i reflui che poi appunto i reflui superflui della cantina siano utilizzabili per magari un'irrigazione per magari appunto una filtrazione e una successiva anche potabilizzazione poi qua subentrano normative ASL che sono sempre complicate e si usano varie essenze a seconda del clima in cui ti trovi varie essenze di piante generalmente sono piante poi si può usare per esempio anche la cannabis o altre piante a crescita molto rapida specie simili al mais e così via dipende da come uno poi vuole organizzare la fetodepulazione immaginiamoci una grossa piscina con argilla espansa questa piscina viene irrorata da questi reflui e le piante che crescono dentro vanno a trasformare i componenti che sono disciolti nelle acque altra sostenibilità in cantina è vabbè l'utilizzo minore utilizzo di soda per la pulizia delle vasche la soda è una componente che utilizziamo tutti i giorni il sapone è fatto principalmente di soda in purezza è ovviamente più aggressiva e va a togliere lo sporco dei contenitori quindi ci siamo dotati come tante altre cantine non siamo certo noi pionieri di testine attaccate alle idropolitrici che vanno a pulire le vasche a pressione e per quanto riguarda proprio la produzione del vino io ti dico che nel mio vocabolario personale ho sostituito il termine naturale con il termine ecologico e ti dico anche perché naturale è un termine che suona tremendamente bene è bellissimo è un payoff che mi ricordo un po' quando si usavano altri termini che andavano sempre a impattare in quella zona semantica come ad esempio chilometro zero che poi scoprivi che non era per niente a chilometro zero come ad esempio i sapori di una volta appartengono tutti allo stesso gruppo semantico questo tipo di espressioni però sono espressioni che possono volere dire tutto o niente se io uso il termine ecologico sto dicendo una cosa molto chiara e quindi ti volevo dire per quanto riguarda la produzione del vino tu che tipo di passami il termine disciplinare generico usi nella produzione del vino allora il criterio che ci ispira è quello di non tradire il nostro terroir il vino deve essere la mera trasformazione dell'uva in qualcosa che rispecchia proprio il vigneto e quindi interventismo veramente basso e e quindi qual è il criterio se stiamo parlando per esempio di lieviti che è una diciamo un topos se alcune alcune partite fanno fermentazione spontanea generalmente quelle in cui individuo che la fermentazione spontanea potrebbe essere più facile quindi magari una gradazione un po' più bassa rispetto alle altre un carico di azoto che arriva dalla vigna già alto quindi che la flora spontanea riesce a metabolizzare e a trasformare poi in moltiplicazione cellulare invece se uso dei lieviti selezionati sono dei lieviti neutri che non producono aromi particolari strani che andrebbero a tradire appunto il terroir certo e poi per quanto riguarda tutte le aggiunte varie è un mondo che non ci appartiene quindi con queste nuove leggi di inserire gli ingredienti in etichetta non ci hanno sfiorato personalmente allora dunque Mattia qui stiamo facendo un ping pong tra ecologia artigianalità etica abbiamo appena terminato tra virgolette perché potremmo passare delle ore a parlare di ecologia ma abbiamo appena terminato quello che interessa a noi nell'arco di questa puntata non abbiamo terminato quello che riguarda invece l'aspetto dell'artigianalità nella produzione del vino ed è una domanda forse un po' da conto della serva una domanda terra terra però è una domanda che secondo me è necessario porsi anche perché poi chi ci sta guardando si renda conto di tante cose come potrebbero essere ad esempio i prezzi a scaffale dei vini e la domanda è qual è il costo dell'essere artigianali allora grazie per questa domanda Francesco perché è un tema che mi insomma mi sta abbastanza a cuore dunque premetto che in Italia siamo noi agricoltori abbastanza fortunati nel senso che abbiamo una delle politiche agricole che ci agevolano abbastanza rispetto ad altri paesi della comunità europea abbiamo una tassazione più bassa ci sono dei fondi comunitari che poi si declinano tramite dei bandi regionali per l'agricoltura che ci aiutano a fare degli investimenti e per fortuna e quindi si riesce anche a programmare una crescita sostenibile dell'azienda ecco però c'è comunque una tendenza a livello un po' mondiale se vogliamo ma parliamo della comunità europea e dell'Italia c'è una tendenza normativa a aumentare sempre di più il carico burocratico e in generale di adempimenti alle verso le aziende e questo purtroppo riguarda in egual modo le aziende come la nostra che producono 20.000 bottiglie o un'azienda senza fare nomi che ne fa milioni è chiaro quindi che se io se noi che siamo in due dobbiamo fare praticamente gli stessi adempimenti burocratici di un'azienda che produce qualche milione di bottiglie vi rendete conto che il costo di questo adempimento non è assolutamente proporzionale anche perché probabilmente l'azienda che produce milioni di bottiglie avrà una persona che esclusivamente dedicava a quello che fa solo quello l'esempio dei valori nutrizionali in etichetta benissimo come diceva Giovanni non ci tange nel senso che siamo assolutamente tranquilli su quello però è un costo fisso in più che noi dobbiamo affrontare e che si va a sommare poi a tanti altri costi e sono tutti costi fissi che un'azienda deve sopportare alla pari di un'altra azienda che per la quale è l'x per mille del fatturato mentre per noi comincia a diventare un x per cento e questo è diverso perché non c'è una progressività e no perché sono adempimenti che che un'azienda deve sopportare e appunto non è progressivo è un costo fisso c'è un un suo costo sia in termini proprio di di marche da bollo o di proprio di imposte fisse che vanno pagate che in termini proprio di tempo perché comunque il tempo ha il suo valore se io devo passare x giornate della mia della mia vita ogni anno a fare della burocrazia è tempo che sottraggo ad altre attività che potrebbero aiutarmi che potrei fare direttamente io e che magari invece devo affidare a qualcun altro come per esempio un tirocinante perché io non c'ho tempo di farle per non parlare delle spese ovviamente di carburanti agricoli che ultimamente sono al centro anche di questa protesta degli agricoltori in tutta Europa e qui ecco devo dire che la comunità europea sembra da un lato voglia puntare a un'economia più green ha degli obiettivi che sono sicuramente condivisibili però poi in realtà queste sono semplicemente delle imposte che sta aggiungendo e non c'è invece un incentivo da un'altra parte a effettuare una vera e propria transizione ecologica cioè anche nei bandi che citavo prima ci sono questi fondi europei che vengono destinati a fare degli investimenti in azienda però per esempio non c'è un maggior punteggio che viene dato a un investimento ecologico rispetto a un altro tipo di investimento o meglio non sempre dovrebbe essere proprio il punto di partenza scusa se mi sono inserito certo no non sempre e questo però fa capire che insomma non c'è una vera volontà un vero impegno da parte delle istituzioni ad andare in quel senso c'è un impegno un po' quando fa comodo cioè quando si usa la scusa un po' dell'ecologia per fare cassa e mettere qualche qualche balzello in più allora lì sì siamo tutti siamo tutti green siamo tutti ecologici però cioè dalle istituzioni mi aspetterei un pochino più di coerenza ecco nelle politiche ecologiche allora guarda mattia io ti dico che non essendo del mestiere non mi sento di entrare nel merito di queste tue affermazioni perché non ne ho conoscenza così come ne hai te che hai conoscenza diretta detto questo mi permetto di offrirti il mio punto di vista per quanto riguarda due aspetti ovvero sia l'artigianalità che l'ecologia per me tutto quello che in qualche modo esula da questi due campi portati avanti in maniera etica fanno sempre tutto quello che esula sottolineo fa semplicemente gioco allo stato di cose attuali te lo dico in un'altra maniera citando Tommasi da Lampedusa parliamo di vino ad esempio in questo momento va tanto di moda fare parlare parlare più che bere di vino naturale è qualche anno che va di moda e non è che l'abbiamo scoperto l'altro ieri io che qualche vino l'ho bevuto e soprattutto per circa 15 anni l'ho venduto mi rendo conto che è l'ennesimo tentativo di far girare la giostra spostare l'attenzione del consumatore da una tematica all'altra e fare quello come dicevo prima che Tommasi da Lampedusa chiamava bisogna fare in maniera che cambi tutto perché non cambi niente ecco perché io dico che rifiuto anche il concetto di naturalità io parlo di concetto di ecologia e parlo di artigianalità come due elementi di rivoluzione sia chiaro non è che siccome chi si è scagliato contro quello che noi oggi chiamiamo caporalato ma in altri termini si tratta di sfruttamento di lavoratori non è che siccome il primo a occuparsene così come a occuparsi di ecologia nei suoi quaderni di scienze naturali siccome è stato Marx allora la rivoluzione che dobbiamo fare è la rivoluzione cruenta che avvenne ad esempio con la rivoluzione bolshevica in Russia non è questo il punto perché di rivoluzioni se ne possono fare a bizzeffe anche Gandhi fece una rivoluzione quindi io vorrei che quando dico questi sono tempi maturi per una rivoluzione non si guardasse al dito ma si guardasse alla luna ovvero il fatto che bisogna fare un lavoro pancia a terra per convincere le persone e fargli capire guardate che se acquistate un certo tipo di prodotti soprattutto alimentari va tutto a vostro vantaggio innanzitutto perché voi siete quello che mangiate di conseguenza se voi mangiate un hamburger sapete che andrete incontro a scariche di dopamina che faranno sì che voi ne unirete ancora ed ancora prenderete peso ora io sono già abbastanza sovrappeso quindi non è il caso di mangiare hamburger prenderete peso ma soprattutto non è quello il problema nel momento in cui smetterete di mangiare hamburger entrerete in un down depressivo e quel down depressivo sarà tanto più lungo quanto più a lungo avrete mangiato hamburger questo può valere per l'hamburger vale per la coca cola e vale per tantissimi altri alimenti che sono studiati le merendine per la colazione per dirne un altro il banalissimo glutammato che si può aggiungere sulle preparazioni dei piatti quindi è necessario condurre almeno dal mio punto di vista una rivoluzione io non so cosa ne pensate ditemi voi no come accennavo prima penso che queste rivoluzioni le devano fare tutti ok e su questo permettimi Giovanni sono pienamente d'accordo è ovvio che come accennavo prima ci sono categorie più fortunate in cui mi ci metto come quelle che vivono in zone più avvantaggiate come la Langa e altre meno quindi noi dobbiamo assolutamente farci capofila non si può mancare questo appuntamento come dicevi tu e quindi benvengano queste iniziative e benvengano poi le scelte pragmatiche quindi poche chiacchiere da bar e veramente andare in vigna con la testa bassa a lavorare in un certo modo o tu volevi accenare qualcosa ma no era un ragionamento un po' diciamo mi collegavo un po' al discorso della terminologia che utilizzava Francesco che lavora anche nel mondo della comunicazione quindi queste cose le sa bene la comunicazione oggi ragiona molto su in termini dicotomici quindi tende a contrapporre due due cose due argomenti e a far sì che non ci sia una discussione un dialogo un'argomentazione cioè c'è il bene c'è il male c'è il mondo dell'industria dei computer e c'è la natura e allora il termine naturale chiaramente così come tutti gli altri termini di quella galassia semantica si legano un po' tutti quanti e questo ritorno alla natura è sempre che poi non è niente di nuovo cioè era già russo che parlava del buon selvaggio non è che sì adesso è semplicemente tornato di moda ma ha una sua positività nel senso che comunque benvenga che ci sia che ci sia un po' di voglia di tornare alla natura che pian pianino magari anche le campagne si ripopolino che si cerchi di mangiare un pochino più sano e in questo anche i vini naturali hanno la loro funzione positiva nel senso che qualcuno comincia a dire cerchiamo di bere un pochino più responsabile e sano ecologico se vuoi anche sai che facciamo adesso assaggiamo i vini i vini li abbiamo versati e quindi adesso cominciamo ad assaggiarli partendo dal bianco chi me lo racconta come lo producete parto io col bianco tu fai il nebbiolo parti tu col bianco faccio il nebbiolo e poi tu fai il barolo ok allora com'è nato questo vino è stato l'ultimo vino insieme alla Barbera a entrare nella famiglia l'idea era fare un bianco l'idea era fare un bianco di struttura e l'obiettivo era farlo senza legno ci appassionava l'idea di fare un blend visto che lavoriamo sul monovitigno in tutti gli altri casi e volevamo fare un bianco se possibile anche da invecchiamento quindi l'idea è andata subito sul timorasso il timorasso ci piace trovavamo paragonandolo anche al cugino non dal punto di vista genetico ma così di somiglianza riesling lo trovavamo magari un po' un po' zoppo i primi anni il timorasso prima che tutto ciò che è il terziario si sviluppi quindi abbiamo avuto l'idea di mettere in blanda anche l'Arneis e la Nascetta che andrebbe detta Nascetta come good per dargli un pochino più di complessità anche i primi anni l'idea non vuole essere fare un vino che gioca su note tropicali e così via vuole essere un vino che gioca più sulla mineralità sulla verticalità e la strada è stata tracciata dal 2020 questa è l'annata 2022 e devo dire che stiamo andando penso in una direzione giusta e il vantaggio di questo vino è che lo facciamo solo noi o meglio la cosa interessante e invece lo svantaggio è che lo facciamo solo noi nel senso che non abbiamo un parametro di confronto con altri tutte e tre le partite fanno macerazione sulle bucce sulle 48 ore qualche buccia ce la dimentichiamo anche durante la fermentazione senza voler fare poi però un orange e poi fa quando l'ultima nelle tre partite finisce la fermentazione generalmente è il timorasso perché è l'ultima di essere vendemmiata si fa un blend delle tre partite in cemento e sta senza solforosa sulle fecce totali per un anno fa quindi malolattica e poi viene imbottigliata verso fine estate e poi fa almeno sei sette mesi di bottiglia allora guarda io me lo sono assaggiato nel frattempo mentre tu parlavi e ovviamente scherzando quando ci ho messo il naso dentro ho detto strano mi ricordo un Riesling detto questo andiamo a vedere che cos'è questo naso scopriamo le carte è un naso di albicocca disidratata è un naso di citrocandito è un naso ovviamente del lì qui proprio faccio quasi mia colpa per non averlo detto come prima referenza aromatica l'idrocarburo qui è ultranitido però non è un vino a senso unico ripeto albicocca disidratata citrocandito un tocco di biancospino un tocco di caramella mu che credo sia dato dalla manolattica e dell'incenso bianco del monte atos io ti dico una cosa l'incenso normale a me dava il volta stomaco l'incenso bianco del monte atos che viene confezionato dai monaci che stanno dai monaci di clasura sul monte atos è un incenso a grene un pochino più grandi ed è un incenso molto delicato molto più sottile come tipo d'odore altre volte se un vino è invece più aromatico uso la definizione incenso palosanto è un incenso brasiliano particolarmente aromatico però questo è incenso bianco del monte ados adesso andiamo alla bocca dunque io sarei curioso di sapere secondo te qual è dei tre vitigni che conferisce la dimensione più sapida a questo vino bella domanda secondo me più che il timorasso sono l'Arneis e la nascetta perché l'Arneis viene vendemmiata molto 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 presto perché per non perdere la città e quindi si porta dietro un pH ancora buono e non voglio essere poi troppo scientifico però questa città poi mi salifica tanto e mi va a formare questa sapidità e infatti i sali sono presenti li troviamo come deposito poi nella bottiglia perché no te lo dico perché questo questo vino in bocca fa un goloso lo so che si chiama passo a due in questo caso nella danza in questo caso è un passo a tre tra l'acidità che è quella che ovviamente spicca più di tutte quindi sì è vero è un vino molto verticale però una volta che hai deglutito l'acidità lascia il posto alla sapidità la sapidità di centro bocca con ai lati un ritorno di morbidezza lattica quindi sì sempre caramella muc e da alcol anche perché comunque siamo sempre sui tredici qualcosa la morbidezza in sé è morbidezza glicerica e quindi da alcol però a questa morbidezza diciamo che si associa in maniera abbastanza diretta anche questo sentore appunto di caramella mu di di tavolette di caramelle al latte non so se c'è presente quelle quadrate devo dire che è un vino molto interessante a puro titolo informativo mi allontano tanto dalla verità se se io in enoteca questo vino lo vendessi a 15 euro mi allontanerei tanto dal prezzo a cui lo proponete secondo voi su uno scaffale di un'enoteca no è quello noi il prezzo nostro Franco Cantina è quello 15 euro ed è più o meno il prezzo che dovrebbe corrispondere in enoteca poi chiaramente dipende dal contesto a Roma si dice che ogni chiesa ha la sua sagrestia come a dire che ognuno poi ok d'accordo adesso ah scusa posso dire l'ultima cosa ci tengo a precisare che il lavoro che facciamo con i nostri clienti è di spiegare che questo vino non deve essere servito a temperatura a frigo di 4 gradi perché un vino del genere lo ammazzi e quindi è molto più godibile a 12 gradi 13 gradi questa è una cosa questo è un vino che secondo me anche con un paio di gradi in più si difendeva benissimo sì esatto era quello il concetto Matti a te la parola sul nebbiolo come anticipato prima questo è il blend dei nostri tre vigneti di uva nebbiolo berri rocchette vino e brandini è un vino che si vuole ecco dopo verremo il barolo questo è un vino che è concepito in modo per distanziarsi molto dal barolo ci sono alcuni produttori che seguono la stessa la stessa filosofia produttiva per i due vini noi abbiamo abbiamo voluto fare un vino diverso un vino che si possa bere anche giovane che non abbia bisogno di lunghi invecchiamenti per affinarsi e per esprimersi al meglio chiaro che comunque un anno circa un po' meno adesso in botte lo fa comunque il nebbiolo è un vino tannico e il tannino ha bisogno di di polimerizzarsi di maturare e questo solo l'ossigenazione glielo può glielo può dare ha bisogno poi una volta imbottigliato di un qualche mese cinque sei mesi preferibilmente in bottiglia per per esprimersi al meglio veniamo un po' all'enologia allora questo è subito una domanda perché è un nebbiolo che non so se è chiara questa mia espressione ma è un vino estremamente aperto nel senso che proprio ti invita sia ad annusarlo che a berlo è un vino che non lascia nessuna any stone unturned direbbero gli anglofoni nessuna pietra non rivoltata mette in chiaro tutto da subito ho quasi la curiosità infatti ti ho interrotto perché la mia curiosità era ma per caso fa macerazione a freddo intervengo io non non cercata non abbiamo controllo della temperatura in cantina si cerca proprio perché non abbiamo controllo della temperatura di vendemmiare le prime ore del mattino per tutte le uve in modo da arrivare con l'uva fresca in cantina generalmente 11 e mezza massimo molliamo giù le forbici e quindi gioco forza i primi 3-4 giorni magari sono a 13-14-15 gradi prima che poi la massa che sia spontanea o meno parta a riscaldare scusami prego Mattia qua mi rifaccio un po' al ritorno sul discorso dell'artigianalità di cui abbiamo parlato prima noi in realtà poi cerchiamo di controllare la temperatura in modo molto artigianale anche nei giorni successivi della macerazione che si protrae per 9-10 giorni su questo vino e non avendo delle vasche con il controllo della temperatura cerchiamo di farlo in modo appunto molto artigianale con delle coperte bagnate che avvolgiamo intorno alle vasche per cercare un po' di contenere il riscaldamento del vino dovuto alla fermentazione ecco poi dopo quando è finita la fermentazione la fermentazione dopo aver svinato o svecciato il vino a volte fa la malolattica nella vasca d'acciaio a volte invece lo trasferiamo in direttamente nella nella botte nelle botte di rovere da 20 ettolitri questo a seconda un po' di quando parte la malolattica in alcuni casi parte subito dopo la la fermentazione alcolica altre volte ci mette un pochino di più e poi niente come dicevo sosta circa 10 mesi nelle botti e poi lo imbottigliamo riposa quanto più possibile in bottiglia ed è qui per godercelo e allora guarda io proprio mi attacco a quello che tu hai appena detto io me lo sono proprio goduto mentre lo assaggiavo questo vino è un vino che innanzitutto ha una grandissima come dicevo immediatezza a questo proposito apro una piccola parentesi che riguarda il rapporto tra il nebbiolo e il barolo siccome molte volte si ha la tendenza a fare abbinamenti tra cibo e vino pensando all'abbinamento cosiddetto territoriale 9 volte su 10 se come dire cucini o meglio se vai a mangiare nelle langhe pensi che laddove si è richiesto un vino rosso ho barbaresco barolo per forza non tenendo conto che invece ci sono moltissimi piatti che necessitano di un abbinamento un pochino più delicato e ad esempio per essere molto più preciso degli agnolotti del plin piuttosto che il carrello dei bolliti per dire io pure il carrello dei bolliti me lo accompagno con questo nebbiolo alla fine il bollito è delicato sono le salse che magari sono più invadenti a livello il punto è che io non essendo piemontese le salse non ce le metto sul bollito ma se è buono c'è ragione te non è che c'è bisogno di sì io invece mi permetto di dissentire io purtroppo sono drogato di bagnet verde io me lo mangio anche a cucchiaiate anche a me piace però se è veramente d'accordo avete ragione però per me è un'occasione per mangiarmi delle cucchiaiate di bagnet ma anche cioè adesso non voglio tirarla troppo per le lunghe però insomma il concetto è che a volte un vino così un po' più per usare un termine che mio padre usa spesso quando assaggia i vini cioè giocherellone per un vino un po' più giocherellone può essere associato a tantissime preparazioni che non richiedono per forza una complessità stratificata come quella che normalmente produce un barolo detto questo è un vino che se dovessi riassumere in un solo aggettivo definirei croccante questo croccante che poi si ritrova al naso proprio con la ciliegia croccante con un bicchiere di acqua con all'interno diluito un cucchiaio di sciroppo da marena quindi non lo sciroppo da marena puro ma il cucchiaio di sciroppo da marena e poi fragolina di bosco ma insomma lo sappiamo facciamolo per chi ci ascolta questo il listone degli odori però li conosciamo quindi nel biolo comunque la viola che abbiamo messo in etichetta io qui se è più sulla frutta rossa io no aspetta tanto finisco la frutta rossa quindi fragolina di bosco riveste rosso mela grana arancia sanguinella in questo caso perché è un po' più ha una bellissima acidità tra l'altro sul floreale ti dico intanto proprio l'odore dell'erba del mattino appena dove si è appena depositata la ruggiada questa dimensione vegetale un tocco di sottobosco fungino e più che la violetta ti dico un put purri di rosa tea che è una rosa con un profumo un po' più delicato qui la violetta mi sembra proprio voler cioè come mi dice siccome nelle biolo c'è la violetta ce la devi mettere qui mi sembra invece proprio voler forzare qualche cosa no su quest'annata è vero siamo secondo me un po' più verso la frutta rossa la 2021 era un po' diversa in questo era più virava più sulla viola secondo me al danzo poi non c'è c'è chiedo scusa al palato poi tannino serrato ma di gran classe sentori di nuovo di maltodestrine caramella mu per via retrofattiva e grandissima acidità anche qui un bel vino bello non riuso il termine verticale perché ho scoperto che il termine verticale sta passando di moda ok è da boomer si è da boomer quindi basta col termine verticale ok slanciato verso l'alto allora Giovanni adesso tocca a te che mi racconti un po' il nebbiolo dai il barolo però mi ricollego al nebbiolo comunque come ha detto giustamente Mattia volevamo proprio avere due espressioni diverse questo proprio il vitigno in sé per sé sul lato più fresco più più fruttato più florale più crispy non verticale e invece il barolo è lui è lui è un barolo ovviamente di di la morra viene per ora solo da Barry e Mattia non ha svelato che in realtà Brandini e Rocchette Vino quest'anno in teoria potrebbero diventare cru anche loro potrebbero diventare barolo perché c'è una grada dottoria che da e assegna i diritti per produrre barolo a dei vigneti di nebbiolo già esistenti nella zona nell'areale e e quindi li aspettiamo quindi Barry 100% annata 2020 Barry è una delle vigne più fresche dell'areale del barolo quindi cerchiamo di mantenere questa caratteristica e non giocare altri campionati che non ci spettano a che altitudine siete a Barry siamo sui 400 è un ovest nel versante ovest circondato dal bosco quindi il bosco mitica tantissimo le temperature scusa non ho fatto in tempo a vedere sull'etichetta ma voi avete riportato anche sull'etichetta Barry come crew no perché nelle annate successive per riempire la botte abbiamo comprato un po' di uva da un amico da un altro crew che si può anche dire che è molto simile secondo me per freschezza che è sotto Castello di Novello che guarda la parte est e non cercavamo abbiamo comprato dell'uva completamente diversa perché cercavamo qualcosa di similare non volevamo snaturare il prodotto e quindi decadeva il crew con il blend e quindi per fare un anno Barry poi l'altro anno no abbiamo deciso rimaniamo con Barolo senza menzione un domani che avremo i tre crew poi andremo magari probabilmente a fare i tre crew diversi separati beh l'uva appunto benché Barry sia condivisa tra Nebbiolo e Barolo il lavoro nella parcella dedicata al Barolo è completamente diverso in vigna si pota un pochino prima essendo una zona fresca ancora lì mi interessa avere un ciclo vegetativo un pochino più ampio e quindi prima poti prima germoglia quindi più ampio è il ciclo vegetativo si lavora con rese basse ma non bassissime nel senso che queste alnate calde a me i 70 75 80 quintali ettaro piacciono di più dei 50 quintali ettaro penso che anche questa sia una cosa da rivedere la retorica che vuole la produzione di due grappoli per per pianta non va più ne stavo parlando con un enologo biodinamico che lavora in un'altra zona d'italia ma stava parlando proprio di rivedere questo discorso delle basse rese per ettaro eh sì perché sostanzialmente ho assistito sulla mia pelle comunque quando lavoravo per un'altra azienda avevo una 5 ettare corpo unico di di barolo da gestire e la cosa bella era a livello scientifico tu potevi fare molte sperimentazioni perché comunque l'appezzamento era quello quindi minima variabilità di suolo e di microclima quindi di terroir e quindi potevi fare tante prove e vedere come veniva l'uva quando tu avevi la piccola parcella con delle rese molto basse sto parlando degli ultimi 5-6 anni dove il caldo si è fatto sentire tu non avevi più una maturazione omogenea avevi l'alcol che spingeva l'acidità che si abbassava e la maturazione fenolica e anche aromatica che erano ancora indietro dovevi vendemmiare perché stavi già facendo un barolo da 15 gradi e mezzo ma magari la maturazione perfetta non era ottenuta quindi anche questo va rivisto assolutamente non vuol dire che faremo 120 130 quintali ettaro diciamo 80 come dice il disciplinare non è un dramma e non devi vergognarti ne hai capito? sono assolutamente d'accordo e che dire? terza decada di ottobre vendemmia è sempre uno degli ultimi appezzamenti che vengono vendemmiati quattro settimane nel 2020 sulle bucce acido intero non grappolo intero i primi tre giorni non lo si tocca o anche quattro giorni quando il cappello inizia ad azzarsi che i lieviti sono partiti a fermentare allora si iniziano dei rimontaggi e delle follature molto lenti e l'ultima parte fa il cappello sommerso e poi fa un anno in piccoli fusti barrique vecchie quinto sesto settimo passaggio infatti se senti il legno non è invadente non siamo amanti del legno nei nostri vini anche il langnebbiolo Mattia ha detto che fa affinamento in bottegrane ed è vero ma non sempre non tutte le masse le masse più tanniche fanno affinamento in botte affinché appunto la microossigenza ne smussi il tannino qua ovviamente il disciplinare ci impone di fare l'affinamento di tutta la massa in legno e siamo sui 24 mesi generalmente appunto 12 in botte piccole secondo noi in una botte grande sempre vecchia non nego che anche questo nel futuro sia una cosa che si può cambiare alcune annate danno baroli che non hanno più bisogno di affinamenti così tanto lunghi come 18 mesi in legno quindi questo è un punto di domanda per il futuro però da disciplinare siamo ancora abbiamo l'obbligo dei 24 mesi dei 18 18 mesi 18 18 e vabbè mentre tu parlavi io mi ero già portato avanti col lavoro e l'avevo già assaggiato allora va detta una cosa la prima cosa è che ancora nonostante l'abbiamo aperto circa due ore fa due ore abbondanti fa è ancora in una fase un pochino chiusa all'olfatto però una volta che tu lo porti in bocca poi per via retroolfattiva evinci i sentori e questi sentori sono mora prugna cotta ramo verde ramo verde di china o di rabarbaro scegliete voi che cosa voglio dire quando uso questo descrittore aromatico barra gustativo che il vino ha dentro di sé una vena vegetale molto intensa quindi il ramo verde che però non è una cosa che persiste nel palato entra ed esce come se fosse un flash quindi hai questa scossa vegetale che una volta che è passata lascia dietro di sé i frutti che sono frutti neri china ora barbaro sono frutti neri quindi c'è questo shock seguito dalla rotondità un po' dark di questo tipo di frutti non mi aspettavo che arrivasse nel nell'arcobaleno degli olfatti a dei richiami citrici rossi quindi arancia rossa la sanguinella sì arancia sanguinella sicuramente ci sono qui magari più che sciroppo diluito proprio sciroppo di amarena per quanto riguarda il palato anche se questo vino ovviamente rispetto al nebbiolo tende ad essere più vabbè faccio il boomer tende ad essere più orizzontale comunque mantiene una spiccata acidità che lo porta comunque parecchio in alto lo solleva molto questo vino per cui anche proprio da un punto di vista schematico questo è un vino che si sente sulla parte bassa del palato ma si sente anche sull'arcata superiore dove l'acido si deposita molto meglio anche più sabido secondo me rispetto al passando la lingua forse forse più che più sabido ti direi più umami e come dire con questo abbiamo concluso gli assaggi ci manca da dare il prezzo al barolo io così la butto lì una cinquantina d'euro sì più o meno dai ci sta qualcuno si può partire da qualche qualche ora in meno e si può arrivare a qualche ora in più e quello è ovvio attiene noi diamo un prezzo meglio poi è ovvio che ogni enoteca si regola come meglio creda certo allora ho ancora una curiosità che chiedo a Mattia ovvero in qualche modo l'avete o meglio in qualche modo l'hai fatta intravedere però ti chiedo di dirci qualcosa di più ovvero praticate delle forme di ospitalità in cantina e che cosa sono le forme di ospitalità che praticate sì qua mi ricollego al ciabot di cui ho parlato all'inizio puntata noi abbiamo ristrutturato questo questo ciabot del del settecento proprio con l'idea di fare delle delle visite in vigna anziché delle visite in cantina come ormai quasi tutte le le nostre le cantine concorrenti o i colleghi fanno per dare proprio un taglio un pochino diverso e mettere al centro la vigna piuttosto che la cantina quindi essendo il ciabot in mezzo immerso nella nella vigna portiamo i nostri ospiti a passeggiare nel vigneto gli mostriamo le le fasi vegetative in corso gli spieghiamo come lavoriamo in vigna e poi ci ci sediamo in inverno all'interno del del ciabot accendendo la nostra stufa in estate stiamo fuori sotto il pergolato e assaggiamo i vini e questa è un'esperienza appunto per per conoscerci per per assaggiare per portarsi a casa qualche bottiglia e così per condividere insomma un momento insieme bene alla luce di questa tua spiegazione mi sono romante due domande da farvi la prima è connessa appunto alla spiegazione di Mattia e la faccio a Giovanni se un era appassionato si trovasse a andare in giro per le langhe perché dovrebbe venire a visitare voi e beh l'ha già spiegato Mattia sinceramente il 70% del tempo che passiamo nel nostro lavoro è in vigna e quindi noi vogliamo comunicarti questo come si lavora come si fanno vigne artigianali perché facciamo vigne ecologici e questo chiaramente non lo impari in un'ora di passeggiata in vigna però ti porti a casa degli spunti di riflessione che ti aiutano anche ad essere poi un consumatore più critico e più formato per il futuro e sì essenzialmente questo e invece Mattia l'ultima domanda è se il medesimo è un appassionato entra in un'enoteca oppure si siede a un tavolo del ristorante e trova o sullo scaffale dell'enoteca o nella cartavini del ristoratore un vino firmato Goeddo perché dovrebbe scegliere di prendere quel vino piuttosto che un altro vino senza fare nome prima di tutto direi perché sono buoni questo deve essere il punto di partenza almeno spero che vengano considerati buoni e percepiti come buoni altrimenti abbiamo sbagliato qualcosa nel nostro lavoro poi dopo di questo insomma se uno li ha assaggiati gli sono piaciuti può continuare a berli a comprarli per tutto quello che abbiamo detto durante questa puntata perché sono vini artigianali sono vini ecologici sono vini fatti cercando di rispettare la natura il il lavoro di chi di chi appunto impiega il proprio tempo dedica il proprio tempo alla produzione di questi vini e e niente e questo fondamentalmente non mi sento di aggiungere altro penso che ne abbiamo parlato già in abbondanza durante questa puntata perfetto allora neanche a me rimane molto altro da aggiungere se non ringraziarvi per la vostra presenza oggi grazie mille Giovanni grazie a te grazie mille Mattia grazie a te Francesco e io vi saluto e vi rimando alla prossima settimana sempre con la rubrica storie di vino e viticoltori arrivederci grazie a te